Mi chiamo Maria, sono ispettore di Polizia Penitenziaria e mi sento di denunciare alla forte discriminazione che ancora sussiste tra uomini e donne all'interno della stessa funzione, dello stesso ruolo. Soltanto una piccola parte di posti viene riservato alle donne. Questa discriminazione ha delle ripercussioni poi in tutta la carriera di noi donne lavoratrici e quindi anche per l'aspetto economico. Ad oggi questa discriminazione è insinuamente ripresentata sul concorso al sostituto commissario dove su 150 posti, soltanto 10, vengono riservati alle donne. Una discriminazione che non ha più senso se noi consideriamo che sia gli uomini che le donne appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono funzioni di concetto e quindi possono indiscriminatamente lavorare sia in sezioni maschile che in sezioni femminile. Mi rendo fortunata perché quando partecipai al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori sono riuscita a posizionarmi con un buon punteggio e quindi a risultare non solo i donne ma anche i lucidrici.